Allora, spiega per che cosa stiamo facendo. Non lo spiegarlo io, lo spiegarlo. Sì, sì, con parole tue. Eh, aspetta, spiegagli. Per me stia spiegagli. Allora, già parlantiamo che la macchinata del patto non fa cagare. Non sono neanche bruzzato, ho la testa che mi ha. Ma infatti sei un po' lucido qui, fa una roba strana, ma dopo vedrai che... Allora, cos'è che gli stiamo facendo perché... Allora, ho fatto un fioretto che se ci salviamo mi tagliavo i capelli a zero. Purtroppo in un posto è scritto la Benalouan, era una battuta. No, no, no. I capelli a zero sono i capelli a zero. Mi taglia di Benalouan. Questa fa schifo. Dai, quella è la tua. Togli questo di nuovo. Dai, che non va la valso, nulla tua. No, la mia è tutta ripresa a ripresa. Io ce l'ho a casa con scegliere. Tanto ci faccia io. Ma poi da favorizzo, no? Da sera a l'uno. Ma poi favorizzo, no? Sì. Ma favorizzo, no? Sì, sennò va bene. Ma no, io credo proprio è vero. Io credo proprio è vero. No, no, no. È vero. Partiamo dal preambolo che la macchinetta del Patton non va al cazzo. qui si stacca. Facciamo vedere. Facciamo vedere. Si smonta come i Lego. Questi sono i Lego. Questa è la cosa del Patton qui. Queste sono le robe di importazione. Le importazioni cinesi. Poi devo dire una cosa. Questo toglio lo dedico anche a Patton e a Tardini che hanno criticato tutto l'anno. No, ma che palle. Il tuo Malesiani intanto oggi. Ma non è il tuo Malesiani. No, ma non è il tuo Malesiani. Si è chiaro e sottoscritto. S'è arrivata la macchinetta professionale. Quante qualità. Io la uso, guarda, per fare il risultato. Vedete? No, questo lo sta facendo via. Poveri stelle. Ma a me stesso ha fatto quanto riguarda le due cerni. Sennò non è un mondo monamuni. Ho detto di un monamuni, anche Patton e Tardini, che c'è il piccadente che balla sul tubo. Gogo, io lo lascerei così Ecco, lasciamo riprendere No, no, no Sembra il più vecchio Sembra il passaggio Riprendiamoci Riprendiamoci Era un anno Adesso è musica Parla in mie orecchia Aspetta, aspetta, aspetta Vediamo, Cesena con la Lazio 0-0, attenzione, parla al centro Parolo, parolo, si defila Tiro di parola, gol Alecce, Alecce, cross in mezzo, Bottani Bottani di testa Nooo Sto passando la via, Zer Vai con i gotti, i giaccherini a Bologna Oh, no, no Inoltre Bologna e stepping Oh, no Laratalarellallallallalla Nooo Sfortunatissima per verità Rappo 00 Laratalallalarattera Prova a far tutto la notte in giorno, si perde il corno in giro sta, miglior con cagna per un barbiere, i dati nobile non si dà. Che roba! Che cosa si le fa sempre? Si è bellissimo. Sembra un gatto armazio. Ma di crescono zavio un po'? Non dire mi sveglia su quello di cui è primo, eh? No, per lui c'era anche un minuto sogno. Non c'era anche un minuto. Ti do la cosa stai neanche male. Così ho venuto da una passata. Oh, vedi? Adesso, la macchinetta ti faccio vedere. Prego, andiamo avanti. Sono le militari che ho avuto così po' voi. Oh, io sono come stilella, la campagna. Non la volta, ma... Così ho fatto soddisfazione, è più da. Ma i fioretti sono lì che li fanno i fioretti per la sceglia, non li ha fatti nessuno. Grazie, non ci ho. Niente. No, non ci stavamo. No, non ci stavamo. Sì, non ci, ma... Non è che lo andavamo i fioretti, i fioretti non li abbiamo bisogno di rifarli. Prego! Ti ho fatto il posto per vedere il sceglia. Ma non ci sento, vedi? Tutti mi, vogliano! Tutti mi vogliono! Donne e ragazzi! Perché facciulli? Ho la parrucca, questo la parma. Ho la sanguiglia, un poteco... Il 13 biletone. Non c'è il mio bambino. Non c'abbiamo il pelo. Quanto cazzo dura sto video? È finito o no? Prego. C'è la spazzola della macchina del caffè. Posto. Pennellino. Pennellino quello, certo. Dai, via. Fai così. Serve un po' di zero. I prossimi saranno un fatto metterne io. È uguale. Dai, girati di qua. Giri. Chi ha il tuo motivatore? Com'è che ha il tuo motivatore? Chi ha il tuo motivatore? Chi ha il tuo motivatore? Chi ha il tuo motivatore? No, no, no. Adesso fate gli scherzi. Suone forato. Buongiorno. Allora, che ci fa un punto. E' un po' di zero. E' un po' di zero. E' un po' di zero. Grazie a tutti.